Sssh, è lui? Sì, eccolo. Zitto. Viene a Fagiolo un altro po' di denaro. Vuoi tacere? Signoria illustrissima. Signor generalissimo. Comandate. Il re a testa è ricevuto un'ambasciata dal re nemico Romualdo, il quale propone un duello finale tra lui e un campione delle nostre armi. Ma la guerra non deve finire. Quando il re sarà qui, da voi verrà dissuoso ad accettare la spia. Gli indomini! Dove diavolo sono gli indomini? Siamo qua, qua. Eccomi lì, maestà. Sgombreranno il vostro animo dai dubbi. Maestà? Sì, re.